Il caldo invece ha accolto Maria Pia di Savoia a Roma. La principessa si è lasciata alle spalle la sgocciolante primavera di Parigi per correre incontro alla primavera nostrana. L'accompagna il consorte Alessandro Charles Segover e l'accolgono i corazzieri del Flash. Anche se porta le calvizie con elegante disinvoltura, Alessandro si toglie il cappello sempre con una certa riluttanza. Per la principessa l'aeroporto di Fiumicino non ha brutti ricordi. Quando la famiglia Savoia lasciò l'Italia, dopo il referendum del 2 giugno, partì dal vecchio aeroporto di Ciampino. Ancora un sorriso per i paparazzi, i quali hanno costretto Maria Pia a togliersi gli occhiali da sole, poi finalmente l'auto parte. E attraverso la Cristoforo Colombo si dirige verso Roma, dove la principessa è attesa dai nipoti principi di Assia a Villa Polisena. Una lapide all'ingresso della villa ricorda Mafalda di Savoia, morta nel campo di concentramento di Buchenwald, dove i tedeschi l'avevano deportata.